Questo corso fa per te se la tua energia maschile è stata innescata fin dalla più tenera età. Se hai dovuto imparare a cavartela da sola, fin da piccola, se hai avuto un esempio familiare in cui il padre veniva servito e riverito, se sei cresciuto in un ambiente in cui il benessere della donna era visto come qualcosa di sbagliato, allora probabilmente hai imparato a stare nella tua energia maschile fin da piccolissima oppure nell'energia della madre. Quando sei in questa energia si attirano uomini che danno il minimo indispensabile e che vogliono essere viziati. Questo ti fa entrare in un'energia controllante in cui non permette agli uomini di essere nella loro energia maschile e ciò mette a dura prova la tua salute, la tua vita e il tuo corpo. È così che inizia il mio corso, ricevo un trattamento da principessa e ve lo consiglio vivamente se avete avuto delle esperienze del genere e quindi siete quel tipo di donna che non riesce a farsi trattare da principessa, da un uomo perché sta nell'energia maschile.